Evitare di rimuginare, di chiedersi perché mi è capitato questo, perché mi è capitato quell'altro, ma utilizzare quello che mi è capitato per ottenere dei vantaggi. È importante imparare anche diverse strategie per gestire le emozioni, dalle meditazioni a degli atti di coraggio, ad altre cose. Questo è come sbloccare le emozioni e trasformarle in emozioni positive. Lo spiegherò bene nel seminario, il prossimo seminario che farò a Torino, questo seminario qua, che è proprio il tema, è quello Torino, venerdì 6 marzo alle 20.45. Elimina i blocchi emotivi per avere la felicità che è Mirti. Il riferimento è 333, 15, 11, 17, 03. Perché? Devi tenere presente questo, che se tu mantieni i blocchi emotivi non potrai mai essere felice. Cosa è un blocco emotivo? Un blocco emotivo è proprio un'emozione compresa, un'emozione che non è stata espressa, un'emozione che non si è sviluppata. Quando un'emozione non si sviluppa, quando un'emozione resta bloccata, quando un'emozione non trova, diciamo, libero sfogo, perché per qualche motivo noi la blocchiamo? Per qualche motivo noi la blocchiamo perché? Perché l'abbiamo vissuta in un tempo in cui non sapevamo gestire, siamo pieni di emozioni bloccate, vissute in un tempo infantile, ad esempio, o anche preadolescenziale. Perché ce le siamo tenute dentro? Della rabbia compressa, dell'amore non vissuto, compresso, ecco, tutto questo cosa comporta? Beh, tutto questo comporta un blocco, un blocco che non ci potrà, un'emozione bloccata che non trova sfogo e quindi va ad attirare paradossalmente situazioni che vanno a conclamare quel tipo di emozione. Cioè se abbiamo bloccato un abbandono andiamo a attirare persone che ci abbandonano. Quindi è molto importante invece sbloccarle le emozioni, sbloccarle per farle diventare utili. Quindi sbloccarle vuol dire viverle, rendere persone consapevoli e elaborare delle strategie che possono essere degli atti di coraggio fatti nel presente o una rielaborazione delle memorie per poterle utilizzare al meglio, perché comunque sono energia e quindi aspetta a noi usare questa energia. Bene, per questo video è tutto. Vi ricordo gli appuntamenti, quindi, di Milano, domenica 1 marzo, fu immerso dal 9.30 al 19.00, tutti i miei soluzioni, innamoro e lavoro. E poi Torino, venerdì 6 marzo, ora 20.45, proprio col seminario, elimina i blocchi emotivi per avere la velocità che meriti. Il riferimento è sempre al 333 15 11 703. E poi ti ricordo di abbonarti al canale Massimo Terramasco e questo abbonamento ti porterà, diciamo, diversi vantaggi. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!